Non so, funzionava fino a cinque minuti fa. Quanto costa? Uno di questi, sei, settecento euro almeno. Settecento euro. Dove li troviamo? Che sei venuto a fare qua? Ti devo parlare. Senti, io non mi illudo di farti da padre. Perché tanto non me lo permetteresti. E allora cosa vuoi da me? Voglio sapere chi sei. Oh, Gesù mio. Ma ti rendi conto? Dalle cole a tua madre. Orgogliosa, è bellissima. Vorrei che non la nominassi, ok? So che stai indagando sul suo caso, però no. Non lo voglio sapere. Va bene. Però tu non te la prendi lo conto, zia. Lei ti vuole bene come una figlia. Sì, ma non lo sono. Sì. 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 Grazie.